qual è il problema della prova scientifica il problema della prova scientifica è essenzialmente legato non vi spaventate la parte teorica dura poco poi parleremo solamente di pratica quindi vi prego di fare un piccolo sforzo nel seguire questa prima parte perché poi tutto il resto sarà nel sarà in in discesa qual è il problema della prova scientifica che dovremmo metterci d'accordo su che cosa sia la scienza su come funziona la scienza in questi ultimi due anni avete abbiamo sentito tutti i santi giorni qualcuno che in televisione ci dice la scienza dice la scienza ritiene la scienza afferma questa è una visione religiosa del metodo scientifico che è esattamente agli antipodi di come dovrebbe funzionare il il metodo scientifico e perché è un problema perché se noi sostituiamo al alla divinità una divinità laica una divinità pagana che chiamiamo scienza ci troviamo esattamente nella stessa condizione di chi non può discutere un qualsiasi predicato una qualsiasi affermazione perché invece di essere affermazione verbo divino è verbo scientifico bene verbo scientifico è un ossimoro è un verbo e scientifico sono due parole che non possono stare insieme il metodo scientifico è basato e in questo è differente da qualsiasi altra forma di conoscenza è basato innanzitutto sul sull'approccio galileiano galeo ricorderete basava le sue analisi su tre elementi misura ipotesi e cimento rilevo dei fatti cerco faccio delle ipotesi per spiegare come si siano potuti verificare e verifico se l'ipotesi che ho fatto cimento esperimento riproduce gli stessi risultati tutto sommato se ci pensate il metodo l'approccio che utilizziamo quando impostiamo una difesa penale non è tanto diverso al netto del fatto che magari il cliente ci ha raccontato come sono andate le cose quello che facciamo è vedere qual è il risultato delle indagini preliminari trovare una spiegazione dei fatti che sia coerente con le nostre necessità difensive e poi verificare se questa ipotesi che abbiamo che abbiamo progettato regge al confronto con le norme e al confronto con i fatti così come emersi accertati dal dal pubblico ministero proprio questo approccio religioso fideistico alla scienza ha consentito l'ingresso nel processo penale in particolare di tutta una serie di discipline che si ammantano di scientificità ma che in realtà ne sono assolutamente prive una di queste è la grafologia la grafologia secondo un criterio vedremo poi come si è evoluto il concetto di standard valutativo nell'ambito del processo penale dei standard valutativo dei risultati di una di una teoria scientifica e questo approccio fideistico dicevo si è tradotto nel considerare nel dare valore scientifico o protoscientifico alla grafologia che pure da certa giurisprudenza in effetti è stata ricondotta in un alveo di diciamo di utilizzabilità ma non certo di idoneità a produrre risultati realmente al non non discutibili non non criticati in questo senso in questo caso parliamo quindi di protoscienze cioè di discipline che hanno una qualche validità pratica una qualche validità empirica ma che non garantiscono quello che vedremo poi essere il paradigma dell'epistemologia moderna e cioè la verificabilità intersoggettiva dei dei risultati anche l'astrologia è una è una protoscienza si ammanta di appunto di metodo di criteri ma nella realtà non ha nessuna nessuna validità eppure vi racconto un aneddoto durante la seconda guerra mondiale gli inglesi assoldarono un astrologo perché prevedesse perché leggesse gli astri facesse l'oloscopo a hitler perché questo non perché churchill chiede credesse nel nell'astrologia ma perché ci credeva hitler e quindi siccome i criteri di lettura delle stelle dei temi natali erano gli stessi sia che si operasse in germania che in inghilterra o altrove nel mondo l'applicazione degli standard astrologici ha consentito agli inglesi adesso poi non si sa bene con quale reale efficacia comunque ha consentito agli inglesi di avere un accesso concettuale alle decisioni che hitler stava per assumere appunto sulla base dell'astrologia quindi a patto di avere una visione pragmatica delle cose non necessariamente le le protoscienze vanno escluse vanno però riconosciute per per tali un'altra un'altra forma di di scienza che ho presunto tale è il concetto è la la pseudoscienza la pseudoscienza è quella che pretende di essere scienza a tutti i costi ma in realtà non non lo è qual è il concetto che differenzia la scienza galileiana la scienza moderna da dalle protoscienze e dalle dalle pseudoscienze il concetto di verificabilità intersoggettiva senza voler entrare in argomentazioni epistemologiche troppo complesse il punto è molto semplice se esiste un modo per ottenere lo stesso risultato affermato da un determinato soggetto indipendentemente da questo soggetto allora e se questa verificabilità diventa dato acquisito nel senso che ci sono più soggetti che indipendentemente convergono verso la stessa soluzione allora è probabile che quel risultato abbia un valore scientifico ma attenzione lo ripeto valore scientifico non è sinonimo di valore assoluto qualsiasi conclusione scientifica vale nell'ambito delle ipotesi che le hanno generate la prima indicazione pratica quindi quando vi trovate a dover patrocinare un caso nel quale lasce le fondamenti scientifici dati scientifici sono in gioco è quello di domandarvi qual è il perimetro all'interno del quale sono state raggiunte quelle conclusioni e quindi andate a verificare in concreto andate a verificare in concreto se il perito perché poi chiaramente del perito stiamo parlando non certo del giudice se il perito che ha fornito determinate conclusioni ha adottato questo paradigma facendo un esempio esagerato voi tutti sapete che la fisica newtoniana è stata superata si legge anche su quotidiani generalisti dalla meccanica quantistica questo però non significa che la fisica newtoniana non continui a funzionare anzi nella stragrande maggioranza dei casi per la nostra vita quotidiana noi ci continuiamo a comportare applicando le regole di quella di quella teoria perché questo semplicemente perché il livello dimensionale del nel quale ci troviamo non ha bisogno di una teoria più complicata se andiamo verso l'infinitamente l'infinitamente piccolo o l'infinitamente grande allora dobbiamo ricorrere alla meccanica quantistica ma per quello che riguarda la nostra scala di percezione il caro vecchio newton è ancora più che sufficiente al alla bisogna se volete un esempio ancora più concreto non so se qualcuno di voi va a vela o ci è mai andato però chiunque va a vela impara a leggere la posizione a stabilire le rotte guardando il cielo e applicando un sistema che è quello di tolomeo che presupponeva che la terra fosse piatta perché questo perché per la necessità specifica perché si fa questo tuttora certo si potrebbero usare i radar tutto quello che vi pare tedesco quello che vi pare però siccome il sistema tolemaico funzionava e funziona tuttora lo si utilizza nel limitato ambito di validità che è quello dell'andare dal punto a al punto b con una barca a vela non si desume dal non si utilizza il sistema tolemaico per mandare un satellite in orbita o per mandare un un razzo sulla luna questo è un po il concetto quindi ripeto ed è forse il cardine se c'è una cosa se c'è un suggerimento da portarsi via alla fine di queste tre ore è proprio questo quando avete a che fare con un ctu che si profonde nel cercare di dimostrare la scientificità delle sue conclusioni la cosa essenziale è capire qual è il perimetro teorico all'interno del quale si muove e se ha senso restringerlo o espanderlo perché voi sapete che i consulenti tecnici hanno la tendenza a specie quelli nominati dal giudice hanno la tendenza a voler spiegare a tutti i costi a voler trovare una soluzione a tutti i costi non accettano se che il quesito non ammetta una soluzione o soprattutto non ammettono di non essere in grado di trovarla ed è il momento nel quale cominciano a tirar fuori le teorie ed è quello il momento nel quale vi dovete porre il problema della dell'ambito di applicabilità della teoria che il ctu sta cercando di far entrare nel nel processo la ovviamente gli Stati Uniti sono stati la patria di questi argomenti anche se poi in realtà lo dico se avete un qualche interesse accademico penalistico l'Italia con il lavoro di Federico Stella sulla causalità scientifica ha raggiunto vette molto più sofisticate della giurisprudenza americana sta di fatto però che gli Stati Uniti avendo una struttura economico sociale eh da sempre eh fortemente permeata di tecnologia si è posta con eh con maggiore anticipo il tema della scientificità della valutazione della valutazione del giudice eh circa la scientificità delle eh dei dati che vengono portati alla sua condizione il primo elemento il primo approccio è eh lo standard Kelly Fry della di una sentenza appunto emessa nel 1923 che poneva la general acceptance cioè il fatto che più o meno siamo tutti tutti gli esperti di una certa materia sono convergono su una certa interpretazione come elemento per definire eh la scientificità di un risultato capite bene che questo concetto del eh dell'essere tutti d'accordo eh è abbastanza limitato è abbastanza discutibile perché gli scienziati sono esseri umani eh e non decidono e non ragionano in modo deterministico quindi il fatto di essere tutti d'accordo non è di per sé un ehm un criterio soprattutto perché perché si sposta eh l'approccio epistemologico galileiano cioè quello del verificare concretamente eh il il valore di verità di un determinato predicato alla reputazione eh dei soggetti quindi se stessimo parlando di eh artifici retorici potremmo dire che ci si sposta dall'argumentum in remma all'argumentum in persona non conta più la eh il rigore del metodo o la scientificità dei dei risultati ma conta l'autorevolezza dei soggetti che dicono che quei risultati sono corretti molte delle tanto per calarvi ancora una volta nella concretezza avrete sicuramente riconosciuto in questa eh in questa cosa che ho appena detto eh un argomento frequentemente utilizzato nei dibattiti di questi eh di questi ultimi tempi eh sulla sull'efficacia dei eh dei vaccini si fa eh a botte eh con eh il numero di palle sul blasone piuttosto che su argomentazioni e su eh verificabilità appunto intersoggettiva. eh l'evoluzione e ciò nonostante lo standard lo standard Kelly Fry è rimasto in eh in uso nella giurisprudenza statunitense per buoni settant'anni fino a quando non si afferma uno standard diverso che poi è stato ripreso recentemente dalla Cassazione in in Italia. Parliamo della dello standard Dobert. Che differenza c'è fra Kelly Fry e Dobert? Lo standard Dobert pone l'attenzione sulla rigorosità del metodo e quindi al giudice non viene richiesto di essere un esperto di scienza eh o della specifica scienza eh che entra nel processo ma di eh valutare se il modo di raggiungere i risultati eh che vengono presentati dal consulente, dal test esperto, quello che volete, eh sia rigoroso e quindi si adotta un criterio formale di scientificità per cui la rigorosità del metodo è garanzia dei eh della validità dei risultati. Grazie. Grazie.